Allora, c'è una pianta grassa che tutti quelli che vengono a farsi un giro nell'angolo delle piante grasse qua a Sassigarden oppure che bazzicano nel mio sito sassigarden.com comprano sempre questa novità, questa peperogna, una peperogna prostrata che però la chiamano tartaruga, infatti ha le foglie che sembrano tanti gusci di tartaruga e anche economica costa 3,90 euro adesso ho degli esemplari piccoli ma avendo provato a già rinvasarla dall'anno scorso l'ho venduto tutti gli esemplari più grossi, cresce molto facilmente fa dei rami lunghi anche 60-90 cm che sembrano delle cascate di gusci di tartaruga sono molto belle, è molto facile, è una peperogna quindi è quasi una succulenta va bagnata, ma terra completamente asciutta, va concimata una volta ogni 2-3 settimane con concime per piante grasse o per piante verdi, meglio per piante grasse un terreno ben drenato e una posizione possibilmente luminosa in inverno e se uno riuscisse a metterla fuori in estate all'ombra, mezz'ombra, veramente raddotti è bella, la trovate sul sito sassigarden.com e vi consiglio di buttarci un'altra grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti!